ok facciamo la prova dei nuovi fari che ho montato sulla mia cf moto 650 mt accendo il principale accendo l'illuminazione gialla il faro bianco guardate qua che spettacolo fari veramente bellissimi e poi abbiamo anche questa figata qua questo può essere utile per segnalare qualcosa permettente lo fa sia sul bianco che sul giallo e direi che sono veramente stupendi questi faretti ora ve li faccio vedere questo è come l'ho fissato vedete al manubrio e adesso vi faccio vedere i faretti nella loro bellezza guardate qua faretti comprati su aliexpress veramente veramente interessanti li proverò quanto prima di sera ok ecco qua allora faro normale fendinebbia e adesso aggiungiamo al faro normale i faretti gialli e bianchi come vedete la potenza del faretto è nettamente superiore a quella del faro rimane sempre una fascia vuota perché purtroppo il faro come ho detto fa una striscia molto sottile però come vedete c'è l'illuminazione è sicuramente diversa guardate anche con la luce gialla questa potrebbe venire molto bene nelle giornate invernali quando c'è nebbia se la spengo questo è il risultato che ne dite